buongiorno e bentornati sul canale oggi vedremo insieme due prodotti della native union e come state vedendo sono due cover una per le airpods e una invece per un iphone xr naturalmente ci sono varie versioni quindi anche per l'airpod pro e anche per l'iphone 11 12 eccetera adesso prima di andarla a vedere vi ricordo sempre di iscrivervi al canale di lasciare mettere la campanellina e di lasciare un like se vi è piaciuto questo video se vi interessano prodotti come quello che vi sto per mostrare andiamo a vedere prima di tutto questa cover appunto delle airpods sono cover particolari perché sono completamente in pelle questa cover come sia poi c'è un po di specifiche e comunque compatibile anche con la ricarica wireless quindi se il vostre la vostra custodia è di tipo wireless quindi con la ricarica anche con la custodia in pelle può tranquillamente funzionare così come anche la cover del cellulare andiamo a vedere un po molto bello anche diciamo la scatola che la contiene vedete con il marchio qui in basso della native union eccolo qui appunto vabbè custodia in pelle per le airpods c'è scritto anche qui di lato un po di specifiche guardate come è bello il c'è un piccolo diciamo una piccola apertura in tessuto sempre con il logo che si tira in questo modo ecco qui e qui potete vedere la cover andiamola a prendere vedete è una cover integrale fatta in due pezzi quindi due pezzi uno per la parte superiore e uno per la parte inferiore con il logo impresso nella pelle come vedete tutto completamente in pelle guardate anche le cuciture qui in basso c'è un foro generoso diciamo per poi permettervi comunque sia la ricarica tramite cavo e questa invece è la parte che si mette su adesso lo andiamo a montare insieme vediamo anche come come viene ecco qui le nostre pose vediamo anche la diciamo l'inserimento abbastanza semplice qui davanti vedete c'è anche un forellino eccolo qui se lo vedete perché in caso di custodia con ricarica qui ci sarebbe il led appunto che vi indica che sta ricaricato mettiamo la parte inferiore in questo modo vedete come entra facilmente lascia scoperto qui il foro in basso e andiamo a mettere anche la parte superiore ok state attenti ad allineare bene vedete le cuciture ma anche questo caso è molto molto semplice fate un po di pressione ecco qui vedete le due parti sono già chiuse guardare com'è bello diciamo ecco la cover è importante per l'airpods sì perché le foto sono molto lisce quindi magari scivolo facilmente ma anche perché si insomma la plastica facilmente si graffia mentre così con una custodia anche così in pelle molto bella vedete anche c'è uno stile normalmente possono essere tranquillamente ricaricare vediamo adesso il cavo come entra guardate come entra facilmente vedete questo è anche un cavo abbastanza grande non è quello classico più e più spesso però come vedete entra senza problemi e questo diciamo è un bel prodotto insomma guardate vi ripeto guardate anche i dettagli cuciture pelle veramente molto bello andiamo a vedere invece la cover per l'iphone allora questo qui appunto per un iphone per il mio iphone iphone xr in questo caso anche qui click card questa è particolare se la vediamo anche perché già beh già la vedete la copertina vedete ha una tasca che permette l'inserimento di carta di credito di banconote quindi da portare magari in modo insomma comodo anche in questo caso pelle ma non è tutto in pelle adesso lo andiamo a vedere ecco qui c'è il logo come vedete qui c'è il sembratore della fettuccia in tessuto per aprirlo ecco qui ed ecco la custodia anche in questo caso eccola qui diciamo la confezione sono molto belle anche come sono state create ecco qui allora la parte che vedete qui davanti vedete ecco qui c'è il logo impresso quindi tutta questa parte dietro quindi è in pelle tutta quanta mentre tutto il laterale quindi tutta la diciamo la custodia vera e propria in silicone duro quindi la parte interna in plastica vedete un silicone duro diciamo la plastica dura che permette appunto di proteggere meglio il dispositivo con tutti i suoi fori vedete in basso quindi senza problemi di per l'accessibilità il foro per la fotocamera e per i flash qui di lato sono i pulsanti che sono coperti vedete ma funzionano in modo ecco qui mettiamo a fuoco il volume e questo è quello dello sblocco ok quindi diciamo resistente più resistente vedere molto rigida però diciamo tutta la parte dietro è in pelle come vedete anche qui le cuciture vedete che possiamo inserirci insomma carte di credito banconote tutto quello che vogliamo vediamo di lato c'è anche qui c'è anche scritto poco native eccolo qui native union eccolo qui e andiamo a mettere anche questa sul cellulare vediamo come come ci sta e andiamo a montarlo quindi sul nostro smartphone il nostro iphone in questo caso iphone xr come vedete la custodia è perfettamente disegnata per il cellulare vedete entra in modo perfetto quindi senza lasciare spazi quindi vedete tutto tutto molto molto a filo e qui dietro c'è appunto questa tasca e quindi diciamo la fotocamera come vedete viene essendo più spessa diciamo la cover la fotocamera viene anche protetta vedete in questo caso perché è a filo vedete e in più c'è questa taschina qui di lato che è sempre comoda insomma per portare magari velocemente qualcosa nella tasca ecco qui i due prodotti allora i prodotti sono su amazon e sono si trovano spesso in offerta quindi si riescono a trovare insomma questi prodotti che ripeto sono tutti in pelle quindi pelle non libero né simil pelle è pelle vera e li trovate a prezzi veramente diciamo questo qui in offerta sta sui 10 euro insomma quindi penso che dei prezzi anche la custodia per il cellulare diciamo siccome un iphone xr questa la trovate sicuramente più spesso in offerta magari quello per l'iphone 12 a un prezzo un po più alto però comunque sia ci sono sia in nero ci sono anche in pelle quindi cuoio quindi color marrone sono cuoio e le altre creazioni che in blu ho visto c'è qualcosa quindi vedete poi a seconda di quella che che preferite ok quindi fatemi sapere se anche voi se vi è piaciuto questo video soprattutto e se avete già se già conoscevate insomma questa marca che vi ripeto si trova su amazon senza problemi quindi anche per oggi è tutto un saluto e un abbraccio da stefano